Tossegnano festa della frittella del fiore di acacia sabato 4 maggio 2019 dalle ore 15 e 30 frittelle focaccia di fiore di acacia formaggi miele e vino musica live con musica in pantofole potrete visitare anche la mostra cultura materiale arti e mestieri collezione mita presso il centro visita palazzo baronale dalle 15 alle 19 mostra fotografica cura della situazione culturale giovanni magnani e per i più piccoli ci saranno i gonfiabili l'evento si terrà anche in caso di maltempo vi aspettiamo